Inversione di tendenza dovada per quanto riguarda le tariffe rifiuti, un calo moderato che però potrebbe essere frutto del paziente adeguamento al metodo porta a porta. Il nuovo prospetto è stato discusso ed approvato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale a beneficiarne soprattutto le famiglie. Quelle con un unico componente pagheranno 3,3 euro in meno rispetto allo scorso anno. Le quote poi si differenziano secondo la composizione del nucleo familiare e vanno dai 209 all'anno per 2 persone a 253,7 euro per 3, 291,5 per 4 e 329,2 per 5 persone. Al di là di questa lieve diminuzione, ha spiegato il sindaco, il nostro primo obiettivo è quello del rispetto dell'ambiente e pertanto continuerà la battaglia contro gli abbandoni. Ma l'aumento della differenziata è sinonimo della giusta direzione che abbiamo intrapreso. Non ancora quantificate le tariffe per le utenze non domestiche, in aula il punto è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza. Dubbiose le opposizioni, convinta che la lotta agli abbandoni debba essere più intensa, favorendo la raccolta magari con sistema misto e con l'utilizzo di cassonetti stradali a badge. Le polemiche sui nuovi metodi di raccolta quindi non si placano, per questo l'amministrazione comunale ha previsto per settembre nuovi incontri pubblici per dissipare i dubbi che ancora affliggono alla cittadinanza.